Si è tenuto a Palazzo Santa Lucia un incontro per fare il punto sullo stato di attuazione del progetto di integrazione degli aeroporti di Napoli-Capodichino e Salerno-Costa d'Amalfi. Alla riunione con il presidente Vincenzo De Luca hanno partecipato per l'ENAC il presidente designato Pierluigi Umberto di Palma e la dottoressa Valentina Silvestri per la GESAC Carlo Borgomeo presidente GESAC e presidente ASA Aeroporti Roberto Barbieri amministratore delegato GESAC e Paola Bussetti CFO direttore finanziario di GESAC. La GESAC società di gestione degli aeroporti campani è impegnata nell'attuazione del piano di sviluppo dell'aeroporto di Salerno che sarà compiuta per fasi e consentirà di ospitare presso lo scalo salernitano circa 6 milioni di passeggeri annui. La prima fase del masterplan attualmente in corso ha un orizzonte temporale al 2023 ed è finanziata per un importo pari a 40 milioni di euro e prevede i lavori di allungamento della pista a 2000 metri di potenziamento delle piazzole di sosta aeromobili e un raccordo di uscita rapida oltre alle opere propedeutiche e agli espropi per oltre 21 ettari. L'appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori è stato affidato alla ATI costituita dalla De Sanctis e dalla Edimoter impegnate al momento nella redazione del progetto esecutivo la cui consegna è prevista nei prossimi giorni. Si conta pertanto di iniziare le attività di costruzione del nuovo aeroporto entro il 30 luglio 2021 per completare la prima fase nei primi mesi del 2023. La seconda fase del masterplan ha un orizzonte temporale al 2025 ed è finanziata dalla regione Campania per un importo di circa 94 milioni di euro e prevede il successivo allungamento della pista fino a 2200 metri, la realizzazione dei nuovi terminal di aviazione commerciale e generale oltre ad altre infrastrutture operative. Sono stati stanziati dalla regione i primi 7 milioni di euro per la progettazione delle infrastrutture previste in questa fase ed il relativo bando di progettazione è stato pubblicato dalla GESAC l'11 maggio scorso con la scadenza per la presentazione delle offerte previste per il 9 luglio prossimo. Particolare rilevanza sarà data alla progettazione del nuovo terminal di aviazione commerciale che sarà improntato ai più avanzati criteri di sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica ed eccellenza operativa e sarà certamente il più moderno terminal aeroportuale del paese.